Se abbiamo quell'evità di arrivare in fondo e se crediamo veramente di poter ambire a dare delle gioie ai nostri tifosi, di quelle vere, di quelle che meritano, perché anche domani ne avremo tantissimi al seguito, e vediamo a farci trovare pronti a giocare contro qualsiasi attrezzabile o qualsiasi momento. Non possiamo scegliere quale sia il periodo e il contesto.